Siamo con il capitano Giuseppe Faiello, Giuseppe Domenica sei rientrato in campionato ufficialmente partendo dalla panchina, Domenica partita importante contro un Manfredone che a prescindere dalla classifica annovera calciatori importanti in rosa. Buongiorno, finalmente ritorno disponibile, ritorno al Marcello Torre, Domenica è sempre un'emozione, come ripeto spesso ai compagni, indossare la maglia della Paganese, Domenica ritorniamo a casa a disposizione del mister e dei compagni. C'è un gruppo di lavoro che sta ottenendo ottimi risultati, però con umiltà e sacrificio si deve continuare su questa strada. Sì, lavoriamo tanto, quindi è giusto che la Domenica meritiamo quello che durante la settimana facciamo. Poi le partite non sempre vengono come vogliamo, noi prepariamo la settimana. Come vivi quest'anno da capitano, da uomo spogliatoio questa stagione? Ci sono tante responsabilità in più, anche Domenica partendo dalla panchina come ha scelto mister Agovino, anche per premiare la squadra che sta facendo bene negli altri effettivi. Sì, è giusto così, il mister è una persona in gamba, è un competente di calcio, quindi sa che a me mi troverà sempre a disposizione, quindi non c'è nessun tipo di problema, la squadra sta facendo bene, devono continuare così, io un minuto, cinque minuti dal primo minuto sono sempre a disposizione, qualsiasi cosa serve al mister io ci sono. Parlavamo del grande entusiasmo che sta aumentando in città, lo sentite anche voi calciatori, staff tecnica e noi che siamo intorno, può essere il valore aggiunto di questa stagione? Sì, la piazza lo sai, sei da tanti anni qua, è una piazza molto importante, hanno voglia di fare bene, questa categoria non ci appartiene e lo sanno tutti, dobbiamo volare bassi, ci seguiranno fino alla fine del campionato sicuramente.